Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Yu-Gi-Oh! Master Duel in questo nuovo video guida in cui voglio parlarvi un po' della banlist, che cos'è, come funziona e perché è molto importante. Mi rendo conto che questo potrà sembrare un discorso abbastanza banale per chi conosce il gioco di carte già da diverso tempo, considerando che la banlist esiste ormai da due decenni. Detto questo ci sono sempre nuovi giocatori e soprattutto in Master Duel la banlist funziona in maniera differente rispetto al gioco di carte reale, quindi nel corso dei prossimi minuti condividerò con voi qualche informazione che in un modo o nell'altro sono sicuro vi tornerà utile o comunque vi farà piacere sapere. Partiamo con una doverosa premessa. Yu-Gi-Oh! come gioco di carte e come molti altri si divide in TCG e OCG, che sostanzialmente sono le due sezioni di gioco, una orientale e una occidentale. Questa distinzione nasce dalle differenze che queste presentano. Innanzitutto le carte non sono sempre le stesse, per esempio nell'OCG ce ne sono alcune che da noi in occidente, perché ricordo tutti che noi siamo nel TCG, non sono ancora arrivate. O ancora anche le regole sono differenti, il regolamento OCG e quello TCG su alcuni punti si differenzia e arrivando al punto importante di questo video pure le banlist sono diverse. Che cos'è una banlist? Molto banalmente è un elenco di carte che o non si possono proprio utilizzare nei propri mazzi o si possono utilizzare con delle limitazioni, quindi soltanto in una o due copie. Le tre categorie di una banlist infatti sono tre, carte proibite, limitate e semi limitate. Intuitivamente delle proibite se ne possono avere zero copie, delle limitate soltanto una e delle semi limitate due. Questo elenco di carte è direttamente consultabile in gioco e normalmente queste si evolvono con il passare del tempo, quindi quella che vediamo oggi potrebbe non essere la stessa che vedremo tra un mese o un anno, a seconda di quanto frequentemente Konami vorrà aggiornarla. Anche perché comunque in gioco mancano anche gli ultimi set usciti, quindi mi aspetto un aggiornamento da questo punto di vista anche nel prossimo futuro. Adesso ammetto di non conoscere perfettamente quella orientale e leggendo dei commenti in giro vedo spesso riferimenti al fatto che il modo di giocare nostro nel TCG sia più legato alle combo mentre quello orientale nell'OCG sia più legato al controllo. Di fatto non posso confermare o smentire questa informazione. La domanda dunque è come si riflette tutto questo su Master Duel? Semplicemente viene utilizzata una terza banlist che da quanto ho visto non rispecchia perfettamente né quella OCG né quella TCG. È una sorta di banlist ibrida creata appositamente per il gioco di carte digitale, il che ha anche senso visto che non parliamo di qualcosa region locked. Noi giocatori tipicamente TCG potremmo affrontare un giocatore tipicamente OCG. C'era la necessità dunque di trovare una via di mezzo tra i due stili di gioco. Al momento comunque da quello che ho visto è una banlist davvero molto permissiva. È pur vero che le carte più famose siano comunque bannate tipo Anfora dell'Avidità, Cambiare Idea e via dicendo, però ce ne sono di altre tante importanti che invece non sono state limitate in alcun modo. Maxi, Destrudo, Chicken Game e altre carte di questo tipo che nella realtà sono bannate anche da diverso tempo ma che invece in gioco non sono minimamente limitate. Comunque staremo a vedere come si evolverà la situazione. Ragazzi, da parte mia per quanto riguarda questo veloce video guida sul che cos'è e soprattutto come funziona la banlist e tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento e se così fosse vi invito a lasciarmi un mi piace, un commento e ad iscrivervi se ancora non l'aveste fatto. Io vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!